E te eri una ragazza di relax, tranquilla, che venivi, te sdraiavi e non rompevi? Senti, va a scendere intanto. E non ci rompe, per favore, veramente. Guarda, guarda. Che fai? Guarda, io... Perché sto qui con voi? Di mozze, morte, così io vado... Perché se fa così? Non ce credo, dai. Mettiamo qua, eh.